Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video, oggi c'è Stellina che fa i suoi versi come al solito Aspetta vado su in torre di controllo qua a vedere se gli operai fanno il giusto Stellina Questa che Manu si sta preparando nella letterina del ciclo Esattamente Allora Allora state vedendo un Alekk che è lì che ha una voglia matta di partire E quindi partiamo Ciao a ne Stellina cosa fai qua? Vai a lavorare Non c'ho niente da fare Eh vai lo stesso anche se non c'è niente da fare Eh vai prima te mai coltivare E' una rimorzione grossa Vabbè ma me piace vedere il lavoro No no eh E' una scusa per staglia far niente Adesso mi metto qua sulla collina con le mani dietro la schiena come vecchietti a controllare se alle vedrete Anche se vai stand Quale che paura Esatto sto trovando Mamma che predo Guardalo che bastardo Ma non lo so io Alekk Stellina Guarda quello che dovresti fare teva Vai a fare con il tuo lavoro invece te Eh cosa spingo su? Intrincea l'aria Sì Esatto hai capito bravo Aspetta prova magari funziona Solo io vedo il getto della trincia che ogni tanto si bugga e supera il rimorchio Sì Ok vive i bug Intanto la in fondo c'è un certo Matteo che sta tagliando erba Andiamo a vedere un attimo intanto Michael quando sei così pieno avviso Adesso è andato storto mi piace Eccolo qua con l'armatrack perchè è l'unico rimasto libero Ti diverti con l'armatrack? Fantastico Eh beh Ah guarda il getto della trincia ma Guarda che nasce indietro le piante e ne pesta No ma anche io vedo il getto della trincia che fa un po' quello che vuole Olè che bello Faccio vedere una cosa ma adesso non vorrei vedere il terreno baggato No io lo vedo posto non come voi le altre volte Ma mamma che lo avevo detto? Eh le altre volte voi vedevate strambolta Eh l'altra volta c'era strambolta Ma in quali quanti litri avete già fatto? La 56 per Eh bestia Io vedo che la trincia spara fuori dal rimorcio vabbè Sì sì proprio Io vedo che Ale va storto Mettere in drissi io c'hai Eh appunto Stellina Vedo che Ale ha già capito la situazione Eh questa Stellina Alla fine poi dietro le quinte come vedete lì ho preso anche l'affarino per macinare le balle di paglia e anche il caro miscelatore che l'ho messo da qualche parte là Facendo qualche missione ho guadagnato qualcosina Ma ma il caro miscelatore è la variante quello che c'è un primo dab No è quello default No è quello default Ma ecco l'occhio non finire giù eh Ma ecco il miracolo che viste Ale è rimorchio nuovo perché Eh rimorchio nuovo che non è neanche il nostro che ce l'ha prestato Giancosino Ma dopo c'incazzo E se li ritorno indietro tutto si è arrabbiato Eh Già è arrabbiato per il 6R dell'altra volta che Stellina l'ha imbiancato dentro E' ricordato Oh sono robato Stellina ha i soliti problemi Ma ecco sei a me 4 Hai Hai Michael che inauguriamo la trance 8 9 8 Hai Ale Si Allora Michael Ti sa di qua qua che dopo ti do delle direttive su dove voglio che lei scarichi Michael sei ubriato? Michael 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 fai una bella fissata Andai Lo rincorro contro il 3 che non lo rimane Ma a me Ale Si Ale Michael mi sembra un po' ubriato Andava un po' zilzago Ah no come vuote sgagni Allora senti signore Michael Mi denuderei il Che se è il 23 Ehm L'alipo Ehm Eh guarda che abbono E gli sto dovessi cercare il mammo Allora Michael Mi scarichi più o meno qua qua dove sono io Ok Pieno 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 Allora, sta proprio con quella pimpia della trincia Lì che te Mike ho nato testato qua Celina Dove scarico? Allora, sul lato Non mio quell'altro Più o meno Sul penultimo Sulla penultima sezione di muro Che ha detto? E vabbè, coordinate giurale Allora, 45 gradi nord 35 e 12 primi Ho capito, scarico dove voglio No Eh, per risparmiare Senti come pompa L'8,1 litri Ma nel senso che gli dai E' una testata Io sono Sì 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 No, no, proprio lì, guarda Puntavo In bocca Quella gli era da Estelina E' proprio colpa di Estelina Appunto Pellinale Spacica ma mafia Sì 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 Chi denuncio E' di sostanza Sì Oma non ci denuncia Sì 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 Ma puro Ok, vi faccio notare La targa dello Zaccaria Che bella E' brutta Perché? Non mi piace No, perché ho cambiato mezzo Perché non ti piace Aspetta Ho anche qualcosa Che non mi è familiare Qua cosa di lusco Quale? Ok, ragazzi Sì No, tu stava Ok, dopo Non mi piace 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 E' qua nell'angolo Della trincia Mentre che peste Eh sì Sì Ti portiamo anche noi Poi Da fincere Ci stiamo Quanto l'altro Non specifichiamo Beh, appunto Ogni riferimento È puramente casual Eh sì Michael Carica Qua Alla mia Sinistra Ripeto Mia sinistra Hai capito A destra E tu Mia sinistra No Che altra parte A fine Ecco Di lì Indietro Indietro Michael Hai letto Nella ciappa Michael 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 Hai letto Nella ciappa Michael Michael Letto Ah M Sì 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 Bravo A destra A destra Che bello avere I carristi Che quando gli dici Qualcosa Scutta Non ho Come qualcun altro Ehm Ehm Ogni riferimento A cose Che sono Puramente casuali Esatto Ale E Ale Manu E dai Ehm E dai Ehm Sei male solite Ehm Mi sei Incastrata Incastrata Lui Dai Ehm Pista Ma Manu Non sai una tessura qua Ehm 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 C'è un invertebrato Guarda qua Guarda qua Ehm 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 Cosa ti hanno fatto Fabrizio Celina Celina Ce la so con tutti E scaricano male Perché non sono dei buoni carristi Vabbè Ti avevo fatto i complimenti che mi aveva ascoltato Guarda Che divertio Celina 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 Arrivo Ehm Ehm Adesso però ti scarichi Non mi dico Ehm Ti vediamo Carica Il fuo Il fuo Ehm Ehm Matteo No poi mi fatti Sti una trincea Ero con Badino Il fuoco No no ma mi se di osato Pagliare qua in capo No Oli che gli usi buoni da testa Oh ma Manu Carica neanche Tu Tu Devi scaricare Sul lato Più Ticino ai cavalli Della trincea Quello più lontano Manu Esattamente Qui devi scaricare Ok Dalla parte del JJ No da quell'altra Qua dietro Devi scaricare Su Manu Lada avanti Lada avanti Matteo guarda Vengo portati Trinciati Guarda Cava sta lama Non devi scaricarla di qua Cava sta lama Muoviti e scaricarla Quell'altra parte Guarda quanto costa Anche il cotoperaio No di qua Sono 28 euro Manu Quell'altra parte Sì Oh che notte Valle che sei Voi dovete andare a scuola Perché non sapete Distinguere la destra Nella sinistra Cioè peggio i bambini piccoli Aspetta di là Sto girando O ti sposto io O ti sposto io O ti sposto i tuoi decimi Allora Ti levi dei maroni Tanto con l'altro Si riempi No Poi arrivate qua Tanto devo spettare Comunque Devo spettare in coda Tanto vale Che faccio qualcosa Ma che mi stai facendo Diventare morto Il mio intento Era proprio quello Vandre con quella urlè Dai Non fermo Scarga Termina Dai Dai calmo Dai Rilassati Per piacere Adesso io faccio così Dai per piacere Dai per piacere Non manca la pittiole Dom Cavate Domanda permesso Come tutti I personaggi civili Viventi a questo mondo Bene Ragazzi abbiamo finito Di trinciare Adesso siamo io Stellina a pestare Qua perchè Stellina Non ha pestato niente Siamo ancora al 70% Di compattamento E allora siamo in due Così facciamo un po' prima Allora intanto Matteo è lì Non so cosa sta facendo Con l'armatrack L'abbiamo perso credo Michael è passato a ranghinare Giusto? Michael? Si Ha passato a ranghinare l'undici Ale è lì che dorme sulla trincia Esatto Esatto Dopo due lavoro Eh beh Eeeh Stellina ha distrutto il suo JJ No Si Eh minchia No dai Si è creata la fossa delle mariane trincee Eh eh Niente problemi Con la fossa Eh Si è trovato chiuso in una voragine al JJ Ok Se i carristi ti scaricano alle spalle sempre... Eh adesso è colpa delle armi Eh è colpa delle armi No 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 Ti cavi dei cocò E chi è che scarica? Io ti ho di certo Eh Ma se non ti cavi delle balle è certo Ma... La regola dice che entri in tea e carica... Comanda chi ha la lama Non qua Qua si O no Ale Ah dipende Come dipende Esatto Esatto Se ci sei tu non va bene Esatto Esatto Perché se comandi... Se comandi te te mi ha posto Mandati a quel paio A quanto siamo arrivati? 78 appena 78 10 Ahhhh Stellina ha? Eh Eh Un altro Dovrei fare gasolio nel 78 10 Eh Per solo 30 litri Mmm Fa per rimanere a piedi stellina Ai 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 Vabbè Ragazzi Io posso concludere qua il video Vi invito come sempre a lasciare un like se avete piaciuto il video Lasciare un commento Iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto Attivare la campanella Condividere il video se volete E E E Niente Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 E ciao anche da Matteo Casparito Ciao